La parte d'avanti e lì dietro, lo facciamo nel modo più semplice perché, allora, guarda prima di fare ciò, allora, ok, guardate qui qua, inspiro e inspiro, inspiro e inspiro e inspiro. Ok, proviamo? Piano piano, piano piano, è molto difficile, serve 4 volte di qua, 4 volte di qua. Bene, allora larghezza 2 volte le anche, cominciamo già, allora andiamo, apriamo prima sinistra, quindi la mano sinistra davanti, come avessimo un pallone, non appiccichiamo qua, quindi spalle rilassate, inspiro e inspiro. Su, inspiro e inspiro. Su, inspiro e inspiro. Su, inspiro e inspiro. Su, io, nel tempo. Grazie.